All'ex conservatorio delle orfane di Terra Murata la mostra di Mimmo Iodice, abitare metafisico. Un altro evento importante qui a Procida, ne parliamo con Antonio Carannante. Sì, è una mostra fotografica del noto fotografo Mimmo Iodice, grande amico di Procida. E per Procida Capitale si è pensato appunto a questa mostra fotografica. Sarà composta di sette scatti che Iodice ha realizzato dall'85 fino agli anni 2000 e che ritraggono una sua visione dell'isola, anche molto appunto fisica. Sarà anche, come dire, molto stimolante andarla a visitare perché vedremo l'isola con degli scatti molto legati al territorio, alla natura, al mare stesso. Quindi la consiglio vivamente e sarà visitabile fino al 31 dicembre di quest'anno a partire da sabato, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 al primo piano dell'ex Conservatorio delle Orfane. Sarà un'esperienza non solo per i cittadini temporanei, come si chiamano i turisti a Procida, ma anche per gli stessi procidani che possono riscoprire la loro isola vedendola con un occhio diverso. Certo, è sempre stimolante guardare il luogo dove si abita attraverso gli occhi di chi invece non ci abita. c'è sempre la possibilità di vedere nuove prospettive e Mimmo Iodice è un fotografo noto in questo senso per cui la consigliamo vivamente.